Lei è presentatrice della TV per ragazzi, è attrice, è cantante, è salvezza delle mamme, è idolo di tutti i bambini più piccoli, insomma chi ha figli che arrivano più o meno fino ai 4-5 anni, eh Carolina, conoscono assolutamente il suo nome, Carolina, benvenga. Ciao, ciao Lorella. Benvenuta, sono proprio molto contenta di averti qui, come prima di tutto dimmi di te come stai? Sto bene, sto bene, sono molto contenta di essere qui, ti ringrazio tantissimo dell'invito e sto bene, sto preparando un po' di cose, quindi sono un po' nel piano del lavoro, però sto bene. Adesso ne parleremo, senti, dicevo appunto idolo dei bambini, però io sono curiosa di sapere che bambina sei stata tu. Ah, io sono stata una bambina molto, devo dire, molto dolce, molto estroversa, sono stata una bambina molto amicona, ero molto amichevole, mi piaceva stare con i miei compagnetti, con i bimbi. Quindi insomma eri già molto empatica, fin da piccola. Sì, tanto, non sono mai stata solitaria, anzi mi piaceva tantissimo stare contornata da tutti i miei amici e poi ero molto estroversa, anche proprio si vedeva questa indole un pochino attoriale, no? Mi piaceva mettere seduti tutti i miei parenti e facevo tutti i miei teatrini, le collo, allora adesso facciamo! E quindi li comandavo un pochino perché devo far vedere che facevo l'attrice, ma già da 5-6 anni ero proprio piccolina. Però sì, sono sempre stata molto giocherellona. Senti, cosa guardavi da bambina in tv? Eh, guarda, io sono figlia di Bim Bum Bam, quindi per me c'era Italia 1 tutto il pomeriggio, ovviamente quando non dovevo fare i compiti, oppure finivo i compiti, c'era la pausa, quindi c'era il mio cartone preferito, che poteva essere, non lo so, Piccoli problemi di cuore, Rossana, piuttosto che insomma quel momento lì. Tutti questi personaggi sempre molto... E poi essendo del Lazio, io guardavo molto Super 3, che fuori dal Lazio nessuno la conosce, per noi Super 3, Sonia e Birillo erano un'istituzione, quindi per me la canzone della buonanotta alle 9 vuol dire tutti a dormire, e tutti quindi i cartoni. E quindi sì, per quanto riguarda i cartoni animati erano, diciamo, quelli. Poi in realtà televisione io la guardavo tanto con mia nonna, quindi guardavo tutti i programmi che guardava mia nonna, perciò tutto quello che era Rai 1, tutte quelle che erano la Carrà, manca a dirtelo Lorella, che ti abbiamo visto con tutte le sazze. E poi insomma tutte queste cose veramente non me le sono perse mai, mai, mai. Sono proprio cresciuta con questi programmi di intrattenimento della famiglia. Senti, mi hai nominato nonna, in realtà io volevo chiedertelo dopo, però so che veramente è una figura che per te rimarrà fondamentale. Mi parli un po' di lei, mi racconti. Guarda, allora se ci arrivo alla fine senza piangere, te ne parlo. Allora mia nonna è stata, perché purtroppo è mancata, è stata una figura totalizzante nella mia vita, perché diciamo che io sono cresciuta dentro casa con mia nonna e mia mamma, perché mia mamma era una ragazza madre e quindi insomma sono cresciuta con mia nonna, mia mamma e mio nonno. Poi poverino mio nonno era già ammalato, quindi diciamo che... L'hai vissuto poco. L'ho vissuto poco, sì, l'ho vissuto nei suoi anni di malattia, non l'ho vissuto come per esempio l'hanno vissuto i miei cugini più grandi. Mia nonna invece è stata di fatto la mia mamma, perché poi mia mamma lavorava tutto il giorno, poverina, perché eravamo io e lei, e vivevamo con mia nonna. E quindi mia nonna si è occupata al 100% della mia gestione, tra la scuola, il doposcuola, la danza, eccetera, eccetera. Tanto che quando mia mamma si è trasferita, io avevo 8 anni, e si è sposata, insomma ha avuto due figli, eccetera, io ho preferito rimanere con mia nonna. Non per niente, però avevo proprio un rapporto viscerale. Sì, fino a 14 anni. Poi con il liceo ho dovuto per forza cambiare, sono dovuta andare da mia mamma, a un certo punto mia mamma mi ha reclamata, ha detto, fino adesso ti ho lasciato, ma però vieni qua, che l'adolescenza è un periodo un po' particolare. Però il rapporto con mia nonna io non l'ho mai interrotto, quindi la domenica è sempre stata passativa da mia nonna, anche se mi trovavo dall'altra parte del mondo, però dovevo tornare per la domenica a pranzo, tutte le sere ci videochiamavamo, poi con l'iPad, con la pandemia le abbiamo regalato quest'iPad, quindi risate per cercare di insegnare a mia nonna come funzionava quest'iPad, ho dei video incredibili, però c'è riuscita, devo dire che c'è riuscita, quelle poche cose le faceva oramai benissimo, lei faceva due cose, o mi videochiamava o vedeva le videoricette di Benedetta Rossi, queste erano le due cose che lei doveva fare, e Facebook ovviamente, commentava tutti, ogni tanto cercavamo di spiegarle che certe battute, a dirle era una cosa, a scriverle era un'altra, e lei poi le scriveva e la gente non capiva, però sì, diciamo che finché a maggio non abbiamo scoperto che aveva questo male, è stata una relazione simbiotica, durante la malattia in realtà si è intensificata, perché io poi quando abbiamo saputo che si era malata, io me la so portata a casa mia, abbiamo fatto questi tre mesi, core a core, chiuse dentro casa, io, lei e mia mamma, mia sorella, eccetera, eccetera, e poi purtroppo, vabbè, la vita dà, la vita toglie, è andata come è andata, non te la potrà togliere nessuno, troverai un modo comunque per sentirla sempre dentro di te, sono felice che lei abbia fatto, diciamo, questo ultimo viaggio con me, sono felice che il suo viaggio si sia concluso, così come è iniziato il mio con lei, questa è una cosa che mi piace molto pensare, è una cosa che mi dà molta forza, anche in questo momento in cui, nonostante siano passati due mesi, per me è successo l'altro ieri, e comunque non ho pianto, brava, sei stata bravissima, sei stata bravissima, senti, torniamo un po' indietro, perché poi non tutti lo sanno, ma tu in realtà hai cominciato tanti anni fa, cioè sei giovanissima, eppure tu hai cominciato come attrice, cioè nel 2005 tu praticamente debuti con una produzione internazionale e con, come dire, nomi altisonanti, mi racconti? Sì, allora, uscì nel 2015, io lo girai nel 2012, quindi avevo 12 anni, Tickets, questo film d'autore di questi tre grandi mostri sacri, Abbaschia Rostami, Ken Loce e Delmano Ulmi, così, tre nomi buttati là. Messi lì, vai. Era un film diviso in tre parti, io facevo parte della parte centrale, che era la parte di Abbaschia Rostami, e ho avuto, però, devo dire, la fortuna di vedere gli altri due, anche se purtroppo non ci ho lavorato direttamente, ho lavorato direttamente con Chiarostami, che ovviamente non parlavamo una lingua comune. C'era sempre qualcuno che mediava? C'era sempre questo traduttore, sì, questo traduttore molto carino, molto simpatico, e non mi dimenticherò mai di Chiarostami, questo suo essere molto... Lui osservava tanto, era sempre molto pacato, immobile, e osservava tutto, con questi suoi occhi da sole, e occhiari da sole, lui immobile, con questo sorriso molto dolce, osservava, 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 in silenzio, e poi ogni tanto veniva, insieme ovviamente al traduttore, e ti chiedeva di te, come stai, che cosa fai, vai a scuola, cioè si interessava alla tua vita, era molto... mi sembrava, a oggi ovviamente la posso pensare, lì non capivo. Perché insomma eri molto giovane, quindi non deve essere facile lavorare con dei bambini, no? Sì. Proprio forse per mantenere, per fare in modo che mantengano la loro verità, la loro freschezza. No, devo dire che lui su questo era molto bravo, perché si interessava del singolo, e quindi in realtà mi faceva domande, che poteva tranquillamente non avere grande interesse, però invece no, lui veniva, mi chiedeva di me, della mia famiglia, che cosa mi piaceva, quali erano i miei interessi, se mi stavo divertendo, e si vedeva che era molto interessato, e questa cosa creava un clima di confidenza e di familiarità. Sì, sì, e anche di serenità probabilmente. Senti, tu hai collaborato e lavorato anche con delle donne belle e importanti, insomma, Stefania Sandrelli, Sabrina Ferilli, Claudio Pandolfi, ecco, si dice che un attore deve sempre essere in grado di rubare da chi ha già una grande esperienza, ecco, tutte queste donne, che cosa hai carpito? Guarda, più di tutte, sicuramente da Claudia ho imparato a non perdere il mio lato fanciullesco, perché Claudia è una persona molto, molto, molto giovanile, ma proprio simpatica, sì, senza tempo, lei senza tempo, e dalle Sandrelli, per esempio, soprattutto da da Amanda, perché Stefania era proprio, era un altro mondo, anche vederla era comunque un altro mondo, una donna di un'altra epoca, ma anche nel modo di fare, nel modo di approcciare al lavoro, faceva parte di quel cinema che tu ne puoi solo sentir parlare. Amanda invece aveva questo approccio così metodico, lei era molto metodica, ecco, sicuramente da Amanda ho imparato questo, mentre Sabrina, vabbè, con Sabrina ho sperimentato un tipo di rapporto che ho tuttora, che è un rapporto molto diretto, ruba con l'occhi, sempre, ruba con l'occhi, ruba, perché lei non è una che si mette alla, lei è una istintiva, te guarda e te parla, e t'ha parlato, e se hai capito bene, se non hai capito, sono affari tuoi, non dico che non hai capito, e allora ciao, è meraviglio, sempre a me piace tanto, devo dire che con lei ho sviluppato questo rapporto molto diretto, poi lei è una che mi piace tanto perché è una che ti dice le cose come stanno, è una vera, non c'ha fronzoli, non c'ha strutture, cose, no, lei te la dice, se ti offendi, sono problemi tuoi, il mondo è vario, se te sto antipatica, te sto antipatica, e devo dire che questo l'ho un po' preso da lei, a un certo punto ho detto, sai che c'è, il mondo è grande, io cerco di essere me stessa e non potrò piacere a tutti, vai così per tutti, me ne faremo la ragione, e quindi poi insomma, dopo tutta questa storia, no, che tu giovanissima fai, appunto, arriviamo alla televisione dei ragazzi, cioè, la prima volta che tu entri in uno studio televisivo per fare un programma per i bambini, ci hai pensato al fatto che quello potesse in qualche modo segnare il tuo futuro? Perché poi insomma, per te è diventato veramente un ruolo veramente importante. No, non avevo idea di che cosa, in cosa mi stessi mettendo, però presso un'entrata, io mi ricordo, avevo 21 anni, perché era, sì, avevo 21 anni, e ho chiamato la mia agenzia dicendo, vabbè, come se fossero 30 anni che, vabbè, io però, ne so stufata di fare solo la te, ma non possiamo sperimentare qualcos'altro, non so, mi sarebbe piaciuto mettermi alla prova, cioè, mettere alla prova a me stessa, quindi non nascosta da un copione. Cioè, apparire come, sì, sì, come persona. Esatto, volevo avere io un rapporto con il pubblico e non nascosta da battute non mie, da un copione o da un personaggio non mie. O comunque da personaggi, certo. E in quel momento storico stava nascendo in Rai su carta questo programma che è poi la posta di Yo-Yo, era in una fase totalmente embrionale e quindi abbiamo detto va bene, dai, prova a fare il casting. Erano a Roma qualche mese dopo. Io ho fatto 5-6 casting se non sbaglio. Il casting io sono andata portando la mia infanzia, quindi torniamo a Sonia Birillo, sono andata e ho letto le letterine come le leggeva Sonia, ho cantato, mi ricordo, quando viene dicembre di Anastasia il cartone e sono stata me stessa. Non mi sono messa a recitare perché altrimenti sarei venuta meno alla mia esigenza, all'esigenza che mi portava lì. E invece è andata bene, quindi poi quando hanno deciso che mi avrebbero dato il ruolo o meglio mi avrebbero affidato il timone di questa piccola nave, abbiamo costruito poi insieme il programma anche basandoci un po' sulle mie caratteristiche, sul mio modo di essere. E da lì sono passate dieci anni e poi devo dire che parallelamente io non riesco mai a stare ferma, quindi dove ho potuto strutturare delle cose parallele ho cercato di farle e infatti poi arriviamo a oggi. Parliamo di un canale YouTube che oramai siamo quasi vicini al milione, siamo a 748 800.000 insomma quindi parliamo di numeri veramente molto molto importanti ma i bambini come ti vedono? Cosa sei? Sei l'idolo? Sei la sorella più grande? Ti sei mai chiesta come ti vedono? Come una specie di personaggio di fata? Io credo che loro mi vedano come in realtà una di casa perché mi guardano talmente tanto tutto il giorno che per loro sono una loro amica tant'è che quando capita se mi vedono per strada e mi riconoscono il più delle volte ci sono ovviamente quelli timidi che si chiudono e si vergognano tantissimo e poi invece gli altri l'altra tipologia di bimbo sono quelli che esplodono ti vengono ti abbracciano Carolina come se non vedessero la sorella da tanto tempo perché poi di fatto io gli riempio le giornate e devo dire che questo slancio ce l'ha pure il genitore perché gli esalvo le giornate e poi dice Carolina però ti ho raccontato dietro le quinte che io ho un nipotino adesso che ha poco più di un anno ho fatto l'esperimento perché ero troppo curiosa e lui impazzisce ma se tu gli metti un altro video di altri personaggi non ce n'è quindi evidentemente i bambini sono molto selettivi e tu hai qualcosa di speciale senti entriamo un po' più nel dettaglio perché io sono molto curiosa proprio di sapere anche cosa c'è dietro perché tu appunto fai questi video fra l'altro so che tu entri tanto in tutte le cose che fai cioè non sei soltanto una persona che realizza davanti diciamo alle telecamere ma sei una persona che lavora anche molto dietro ecco cosa c'è dietro la scelta di una canzone di un video so che tu ti occupi anche proprio del look no degli abiti raccontami un po' qual è il processo creativo che c'è dietro allora sicuramente il primissimo giro sono stata sono partita un pochino più orecchie basse perché entravo in un contesto che non conoscevo era la prima volta che approcciavo con una discografica quindi diciamo che cosa che non è solito fare non sono solita fare però ho lasciato fare i primissimi video poi a un certo punto quando ho preso le misure e ho preso confidenza ho detto ok raga allora facciamo così e lì probabilmente hanno cominciato ad odiarmi alcuni però è più forte di me perché poi io sono dell'idea che il team è importantissimo bisogna fidarci però fidatevi anche di me io mi fido di voi ma voi fidatevi anche di me perché questo settore oramai lo respiro lo mastico l'ho studiato l'ho capito e devo dire che fortunatamente ho trovato un team che lo fa lo fa senza problemi dietro a un video c'è sicuramente la scelta delle canzoni che anche lì litiga che ti dico perché io poi sono precisissima devo stare attenta a quello che a il messaggio che mandiamo all'interno della canzone se la sonorità mi piace è positiva oppure se è troppo negativa no non mi piace le note non mi piacciono mandiamo messaggi anche sai non solo positivi ma devono proprio insegnare qualcosa le canzoni qualcosa gliele devono insegnare che ci sia anche della didattica in qualche modo sì perché altrimenti è vero tu li metti tutto il giorno davanti ai video ok però sti bambini che imparano sì sì fa in modo che non sia un tempo perso esatto vorrei è bravissima mi piace pensare un tempo creativo ma anche un tempo istrutivo che possa arricchire sì esatto e quindi dalla scelta delle canzoni e quindi alcune sono delle cover altre invece sono degli inediti su quello vado un pochino più tranquilla beh diciamo hai sicuramente anche un gruppo di produttori no? molto qualificato però comunque ecco tu dici sempre un po' l'ultima senti tanto la responsabilità di parlare a dei bambini perché insomma comunque i bambini sono sono anche indifesi no? quindi insomma è anche importante sentire sì sono delle anime sicuramente molto delicate e proprio in questo modo bisogna trattarle in modo delicato io quando approccio con i bambini ne sento la responsabilità e me la prendo al 100% questa responsabilità ed è per questo che nei miei prodotti non si vedranno non si sentiranno mai cose fuori luogo o che non sono in linea con la loro età e con la loro evoluzione fisica emotiva e psicologica perché ci tengo tantissimo perché vorrei proprio dare al genitore la tranquillità di poter mettere il loro figlio o la loro figlia davanti al mio prodotto e stare sereni perché tanto con me possono star tranquilli tu non hai bisogno di nessun organo di controllo diciamo sei talmente tanto brava tu che proprio non c'è bisogno di nient'altro senti dal tuo diciamo osservatorio perché tu comunque oramai sono dieci anni che parli con i bimbi sono cambiati i bimbi nel frattempo oppure non trovi grandi cambiamenti allora sì ma in realtà il bimbo cambia in funzione esclusivamente della società in cui nasce è ovvio che questi bimbi siano dei bimbi un pochino più veloci un pochino più smart è vero che questi sono bimbi che hanno appunto uno smartphone un tablet in mano già da piccolissimi e quindi ovviamente i loro processi il loro stare al passo con i tempi è velocissimo il bambino di per sé è una spugna quindi comunque da che mondo è mondo è sempre velocissimo nell'apprendimento e quindi diciamo che trovo costante il fatto che siano sempre velocissimi nell'adattarsi e nello stare al passo con i propri tempi molto più di noi che siamo adulti però in realtà veniamo da altre generazioni quindi noi ci mettiamo sempre un po' di più a prendere le misure loro invece in modo naturalissimo inconsapevolmente già lo sanno fare anche perché sono sollecitati sicuramente molto più di quanto lo fossimo noi senti parlando di bambini ma tu vorresti avere bimbi? io vorrei assolutamente sì io vorrei è assolutamente un progetto che che mettiamo in cantiere quando possiamo e è ovvio che adesso ecco il tour le cose c'è sempre una scusa c'è sempre una scusa saranno tre anni che c'è sempre una scusa però tanto poi alla fine come diceva mia nonna mi diceva sempre tanto c'è sempre qualcosa da fare cioè non troverai mai il momento in cui stai ferma e dici ah sai che faccio per i prossimi nove mesi sto a casa allora no e quindi a un certo punto uno si butta e quando arriva siamo tutti contenti e se no nel frattempo lavoro di certo non sto a casa a questo proposito però io lo devo dire no che comunque io e Carolina ogni tanto ci incontriamo qua e là perché insomma ecco poi ci siamo incontrati anche in altre situazioni io conosco la sua dolce metà che fra l'altro Riccardo Scinega è una persona splendida fra l'altro insomma uno dei produttori più bravi di questo periodo ecco mi racconti come vi siete incontrati e che cosa ti ha fatto innamorare di Riccardo allora noi ci siamo incontrati in un periodo storico per me tremendo tremendo perché uscivo diciamo dalla mia precedente relazione che chiamarla solo relazione è riduttivo perché ero sposata e poi vabbè purtroppo non per scelta mia per tante motivazioni le cose sono andate come sono andate quindi diciamo che era un periodo veramente veramente devastante e l'ho incontrato banalmente ad una cena io ero a Milano per lavoro e stavamo cenando con tutta una serie di persone tra cui c'era anche il mio produttore di tutto il primo disco di cover e mentre cenavamo ognuno era impegnato a parlare di lavoro e io in realtà ero come dire un'esterna di tutta questa situazione e lui era quello che aveva creato il gancio tra tutte queste cose di lavoro che si erano create quindi io mi guardavo un po' intorno c'avevo di fronte un po' un pesce ford'acqua mi guardavo un po' intorno ma vabbè questi parlano dei musici poi proprio non ne capivo ancora niente questi parlavano di musica questi parlavano di testi le cose gli autori gli editori ok e a un certo punto ho incrociato lo sguardo di Riccardo che mi ha guardato vedendomi palesemente un po' in cerca di aiuto e sai che non mi ha detto niente mi ha solo sorriso in silenzio mi ha guardato mi ha capito mi ha sorriso poi è arrivato il cameriere che ha fatto una battuta stupidissima ma sai di quelle che ride solo lui mi dice ma che senso scusa non l'ho neanche capito e neanche me la ricordo questa battuta però so mi ricordo perfettamente che insieme l'abbiamo guardato poi ci siamo riguardati siamo sbottati a ridere solo noi due in tutto il tavolo e da lì niente non l'ho più mollato ah quindi proprio è stato veramente un colpo di fulmine è abbastanza poi lui ha tribolato tantissimo perché ti dico questo periodo vabbè certo per conquistarti non è stato sì quindi lui è stato anzi molto devo dire carino paziente sì addirittura c'è stato un momento in cui mi sono ritrovata che lui era tipo il mio psicologo che mi diceva ma forse forse ci puoi riprovare forse devi fare io gli ho detto ma che c'è riprovato questo non me vuole ma io lascio a perdere io riprovo le ho provate tutte per annelarci però è stato bravo però è stato bravo non ha pensato non ha fatto è stato un signore non si è mai permesso di dire ah finché non ha capito che io ero pronta ad aprirmi a una nuova esperienza comunque siete proprio una bella coppia guarda te lo dico pubblicamente grazie senti prima di arrivare alle nostre alle nostre carte parliamo tu me l'hai accennato prima di questa esperienza perché tu hai fatto veramente di tutto però adesso arriva arriva il teatro arriva a dicembre con uno spettacolo che fra l'altro tu hai fatto per i bambini e che mi risulta tu abbia scritto ecco raccontami un po' allora questo spettacolo che si chiama Natale Favoloso che è il titolo del mio disco di Natale dell'anno scorso fatto come sempre in collaborazione con Sony Music e Studio Bozzetto che sono da sempre i produttori di tutti i miei video infatti Studio Bozzetto è lo studio grafico con cui noi abbiamo poi creato tutti i video eccetera e abbiamo deciso di portare all'interno di questo disco ovviamente un disco per i bambini è una cosa un po' strana obsoleta non capisco ci giocano frisbee cioè che cos'è un disco per loro e allora l'idea dell'anno scorso è stata scriviamo una storia di Natale e diventa il packaging del disco quindi io ho scritto questa storia di Natale che è una favola è una favola con degli elfi un po' burloni che fanno un po' di marachelle e alla fine le risolviamo eccetera eccetera e questo poi è diventato diciamo il disco natalizio quest'anno stiamo portando quella storia a teatro con ovviamente ci saranno anche canzoni senza tempo perché non posso non far ballare ai bambini le canzoni che più amano però sicuramente è uno spettacolo natalizio e il sapore è totalmente natalizio che bello e poi insomma la cosa bella è che ce li avrai lì e tutti perché tu di solito sei o in televisione oppure ecco anche sul tuo canale però comunque i bimbi li senti ma li senti sempre dietro uno schermo per una volta ce li avrai tutti beh sì allora di live ne ho fatti tanti ma non tanti quanto vorrei nel senso che poi ne puoi fare tre e quattro fatti bene belli però questo è un tour di tredici quattordici date tutte quasi doppie e quindi di fatto ho l'opportunità di conoscere un'infinità di bambini tutto nello stesso periodo ecco meraviglioso siamo arrivati alle carte tu giochi a carte? ma non so perdeva mi nonna mi ha insegnato un sacco di cose sono un po' biscattiera io ah sì il gioco preferito? eh allora con nonnetta giocavamo molto a bestia non conosco bestia è una specie di briscola però un po' più pesante un po' più rude un po' più poker texas holden però perché quello normale non mi piace mi piace più lo stile americano vabbè ma io comunque non ti faccio giocare a carte io ti faccio pescare tu leggi le domande ok vediamo se scopriamo qualcosa in più di te e rispondo eh certo ah dolce o salato eh dolce purtroppo e perché purtroppo? perché dolce c'è una linea pazzesca che ti frega? ma che linea pazzesca qua tocca sempre sta dieta poi a dieta non ce sto mai e quindi dico vabbè dai dimmi la cosa per cui proprio non puoi resistere impazzisco la cosa per cui impazzisco di dolce è i dolci proprio le torte torte il pistacchio è una cosa che mi fa volare il torta al pistacchio il tiramisù il tiramisù il tiramisù è una cosa proprio che mi leva la vita insomma uno se ti vuole conquistare sì e penso Riccardo evidentemente Riccardo proprio in cucina a zero è tanto bravo ma neanche a comprarlo un tiramisù buono non so se sarebbe in grado di capire qual è buono e quale no non ci credo vabbè devo chiamarlo allora gli devo dare un po' di consigli ah la tua celebrity crush anche nel passato magari immagino che oramai forse il tempo adesso un po' meno delle celebrity crush si è passato però dimmi proprio una grande cotta che hai avuto nel passato beh Zac Efron eh Zac Efron ragazzi è le ha colpite tantissime è stato proprio un colpo al cuore anche se ti stupirò e c'è stato il periodo dei Tokyo Hotel ah in cui il cantante il leader con tutti quei capelli sparati dritti tutto truccato di nero bianco ti faceva battere il cuore tantissimo non so perché ogni periodo c'è il suo regalo una cosa bella a regalo una cosa bella a mamma regalo una cosa bella a mamma cosa mi regaleresti eh a mamma allora se devo andare sul filosofico un po' di serenità ogni tanto pureta perché tribola sempre se devo andare sul sul materiale le regalerei probabilmente una bel pacchetto spa per farla rilassare anzi adesso ve l'ho detto un po' di coccole vedi pepe natale assolutamente vediamo sei un supereroe quale wow wow sono un supereroe sono tutti supereroi della marvel messi insieme tutti insieme eh mamma mia quanti superpoteri vuoi se dove devi scegliere però se devi scegliere un superpotere quale vorresti allora il teletrasporto vorrei il teletrasporto che è l'unica cosa che è obiettivo multitasking ce l'abbiamo diciamo che però ci risolverebbe un sacco di problemi soprattutto col traffico perché poi uno dice vabbè il teletrasporto da qui a boh a Marte no no da qui a Garbatella bravissimo da qua a Milano da qua a Torino così ti svegli la mattina e ci sei non sarebbe male allora ultimo messaggio su Instagram ultimo messaggio su Instagram è stato di una mamma che mi chiedeva di venire a teatro mi chiedeva gli orari mi chiedeva le cose ah cioè ti chiedono proprio anche tutte le informazioni sì sì certo io rispondo a tutti comunque ce la fai? certo mi metto un attimo mi prendo del tempo però cerco di rispondere a tutti perché mi rendo conto che spesso le informazioni scritte sui siti non sono proprio così chiare sì a volte lasciano un po' il dubbio e allora lì dove si crea il dubbio loro mi chiedono e io rispondo molto volentieri perché così almeno non ci sono problemi allora da bambino cantavo sempre mi diverte molto questa cosa no? perché tu che hai cantato tante canzoni per i bambini ma quando eri piccola tu cioè ti ricordi proprio il primo disco comunque la prima canzone proprio come percezione che ti piaceva cantare sai quelle di Cristina D'Avena perché comunque lei era proprio ma tipo i puffi? no più tipo piccoli problemi di cuore che era il mio cartone preferito e io me la cantavo tutta tra l'altro era un po' era un po' così introspettivo un po' struggente struggente sì era un po' vabbè era il periodo evidentemente sì era il periodo ultima canzone ascoltata su Spotify guarda è la canzone di Alex sì sì che ha prodotto Riccardo però adesso che non mi ricordo ma non ferma stelle in antartide ah bellissima esatto non lo sapevo che l'avesse prodotta Riccardo mi piace mi piace moltissimo sì credo che sia la traccia 3 dell'album è bravissima ma sì dopo chiederò paura uh paura paura è una fobia che cosa ti fa paura i serpenti sì sì se dici così sembra che ce ne sono tantissime di fobie no 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 proprio i serpenti ti fanno paura i serpenti una cosa proprio per me incontrollabile è una fobia di quelle ma da sempre ma anche se li vedi dietro una teca non li posso proprio neanche sognare non li devo neanche immaginare già adesso che la sto immaginando mi sta venendo già il brilido come mai? non lo so mia nonna mi racconta mi raccontava che quando ero piccola nella culla di 2-3 anni o 2-3 anni io mi svegliavo dicevo nonna te penti nonna te penti ma non lo so perché non si è mai capito se io abbia visto qualcosa in televisione che mi abbia traumatizzato questa cosa non si è mai capito o magari hai fatto un incubo in cui esatto e quella roba però mi è rimasta quindi io adesso non li posso vedere ma neanche nei cartoni ma neanche i miei fratelli quando erano piccoli che i miei due fratelli più piccoli sono stati veramente veramente di miscoli per non dire altro per ricattarmi usavano i serpentini finti non ci credo lo giuro io andavo mi chiudevo in bagno urlavo ma mi aiuto ma io vent'anni cioè non è che ma mi aiuto ti prego e allora se non me lo dai ti faccio venire se mi facessi in mano non lo so una tazza di tè bollente e tu mi facessi vedere io scapperei beh la stessa cosa che io farei per i topi per esempio sì eh io ho il terrore dei topi invece i serpenti io una volta sono anche entrata in una in una gabbia piena di serpenti no non mi posso sentire male invece se mi capitasse per esempio con i topi io diventerei pazza pazza quindi ognuno ha le proprie fobie che bello sono proprio contenta di averti visto senza per finire sì Carolina chi vorrai essere fra dieci anni come ti vedi come mi vedo fra dieci anni allora fra dieci anni sicuramente mi vedo mi vedo così come sono caratterialmente quindi probabilmente un pochino più strutturata però spero di riuscire a conservare questo mio essere molto molto fresco ecco molto molto dolce e e allo stesso tempo professionalmente spero di essere riuscita a proseguire talmente tanto da aver costruito un macro mondo tutto mio in cui le famiglie ecco un mega contenitore per famiglie mi piace pensarmi all'interno di questo mega contenitore per famiglie dove riesco a far convogliare sia i bimbi sia i genitori in modo totalmente coerente e accogliente ecco vedo un po' cosa è un po' complicato perché sono generizioni mi sembra che tu abbia già cominciato a seminare molto molto bene speriamo dai piano piano senti per salutarci mi fai vedere proprio così in fretta i piccoli movimenti di boom boom cia cia perché mi piacciono i tuoi pezzi tra l'altro boom boom cia cia anche l'ho scritta con riccardo e con fabio vedi allora vedi e io lo so perché c'è c'è qualcosa che capito? si 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 sente vai allora boom boom cia cia che i genitori mi sbagliano sempre ma in realtà è semplicissimo vabbè tu sei pro e quindi lo fai subito però è molto semplice fa boom boom cia cia tiki cia cia la seconda volta batte una sola volta sulle gambe e quindi è boom cia cia tiki cia cia boom boom cia cia tiki cia cia boom cia cia tiki cia cia boom cia cia tiki cia cia vabbè ma perché non ci stiamo impegnando no ma lo sai che poi mi ricorda un po' anche la coreografia di noi stiamo insieme di Gris per cui grazie grazie a voi grazie a voi grazie veramente grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.